Un cordiale buongiorno da Villalagarina per Vallagarina Molveno, la formazione ospite punta a riprendere la rincorsa verso la Vezza, i locali giocano senza alcuna pressione. Calcio d'angolo dalla destra ha diverse soluzioni, va a cercare un compagno sul secondo palo, combatte, poi Angeben non la controlla, arriva a Maffei che conclude, spinge la difesa. Manica sul punto di battuta di questo calcio di punizione, fischia l'arbitro, parte il numero 10 che conclude a lato. Minuto 27, Manica contro Ivano Donini, 9 contro 1, fischia l'arbitro, la rincorsa di Parisi, la conclusione di destro, arriva l'1-0. Altro calcio d'angolo, questa volta la battuta è tesa raso terra, la palla che rimane lì, la conclusione, si salva la retroguardia ospite. Grazie. Grazie.